Dottore Caputi, dove si può applicare, come si può usare questa nuova tecnologia dei gemelli digitali, Digital Twins? Sì, dall'inglese Digital Twins è proprio la copia virtuale, digitale di una cosa reale. Oggi mostriamo come è stata applicata alla stazione di Milano, dove abbiamo scattato 6.000 foto e ne abbiamo prodotte 1.500 utilizzate nella creazione di un modello. Il bello di questo modello è che non è un filmato hollywoodiano oppure un rendering di quelli che conosciamo tanto bene, ma è un modello navigabile e soprattutto integrabile con tutta un'altra serie di informazioni. Le informazioni possono essere di qualsiasi natura, piani della sicurezza per esempio, ma poi dopo anche piani di manutenzione, schiere tecniche, tutto quello che può servire alla gestione e manutenzione. Quando stamattina un altro suo collega mi ha chiesto, ma a che cosa serve il Digital Twins? Si può fare questo e quest'altro? Dice, cosa fareste voi di una copia esatta, digitale, di una cosa reale? Allora, se pensiamo alle gare, io partecipo a una gara, metto nel, allego alla mia gara un gemello digitale di quello che devo realizzare per far vedere che ho capito bene. Devo fare formazione in un cantiere, metto il cantiere, faccio delle foto al cantiere e dopodiché le mie maestranze vengono formate su un modello digitale di un cantiere reale, quindi un po' di incidenti magari accadono meno. Oppure integro il modello, in questo caso della stazione, a un sistema informativo aziendale dove ci sono dentro tutti i dati relativi alla manutenzione e io cliccando sugli oggetti del modello ho in automatico anche tutte le informazioni. Pensiamo alle squadre di manutenzione, le squadre di controllo degli edifici hanno una vita molto più facilitata, non devono più andare a scartabellare i manuali per trovare la informazione che ci riguarda. Io chiuderei questa, per rispondere alla sua domanda, chiuderei con una connotazione, riflessione un po' filosofica. Noi diciamo viviamo in un'età dell'accelerazione, tutto sta accelerando. Se guardiamo i grafici, negli ultimi cento anni l'uomo è avanzato, facendo un paragone con tutti gli altri uomini che ci hanno preceduto, di oltre 20.000 anni. Questo progresso è difficilmente gestibile ormai, non si può più gestire. Né dal cervello umano, né senza delle macchine adeguate. Il digital twin non fa che accelerare ancora di più un processo così vorticoso. Come è nato? È nato da tre cose che ormai sono sotto gli occhi di tutti. La semplicità, pensiamo all'iPhone, dove un bambino di un anno già clicca e si trova un'app. Il cloud, tutti dicono cos'è cos'è. Il cloud è far aumentare la potenza di calcolo gratis per tutti. E il terzo fattore, la banda larga. Quando io vedo, prima eravamo col 2G, poi col 3G, poi col 4G, ieri c'è stato il bando del 5G, quanta più banda larga c'è, tanti più contenuti informativi di questo tipo viaggeranno in rete. Quindi chi non capisce questo rimane prima dell'età dell'accelerazione. Una tecnologia che serve anche dal punto di vista degli impianti, cioè non li preclude come ogni modello BIM? No, addirittura dovrebbe nascere proprio per gli impianti, perché io posso, fotografando degli impianti, mi creo una libreria di oggetti degli impianti. Pensiamo ai binari. I binari ogni tanto hanno uno switch, uno scambio, hanno i loro impianti, hanno i loro semafori, eccetera. Inoltre che li ho fotografati e ho creato degli oggetti da questo, viene fuori in automatico con questa tecnologia, cioè io faccio la foto e gli algoritmi identificano il semaforo. Quando poi andrò a digitalizzare altri chilometri con altri semafori, l'oggetto è già dentro. E quindi è una crescita esponenziale della capacità elaborativa e soprattutto dà più velocità a un determinato tipo di risultati. Grazie a tutti.